Rapina e ricettazione di orologi di lusso, 20 arresti nel cuore di Napoli nella vasta operazione messa a segno da decine di poliziotti che hanno sgominato la gang dei Rolex. Alle prime luci dell'alba si sono alzati gli elicotteri delle forze dell'ordine per guidare dall'alto gli arresti nel centro antico di Napoli. In manette un'intera banda dedita al furto di orologi di valore, come i Rolex, che venivano poi rivenduti sul mercato nero. Una gang articolata con ruoli precisi e altrettanto precise competenze. E sono 20 le persone raggiunte nel capoluogo partenopeo dagli agenti di polizia che hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura. Mesi e mesi di accurate indagini, appostamenti, intercettazioni hanno consentito di ricostruire l'organigramma che ha visto in campo rapinatori spietati e abili ricettatori. Sequestrati orologi di valore per centinaia di migliaia di euro. Un business, quello sgominato, particolarmente redditizio per i malviventi organizzati nella gang. I venti arrestati sono gravemente indiziati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio e in particolare di rapine a mano armata, ricettazione e riciclaggio di orologi di valore. Elicotteri in volo dall'alba di oggi per supportare i colleghi a terra che hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare tutte messe a segno nel centro storico di Napoli.